Il telepass Il telepass Al parcheggio Eden di Arezzo da adesso si potrà Accedere anche con il telepass e con lo stesso sistema si potrà pure pagare la sosta. Andiamo verso il futuro, per lo meno inizialmente con questa attivazione del pagamento automatico con il telepass dal parcheggio dell'Eden che è uno dei più frequentati ad Arezzo ed è uno dei quali nelle ore di punta si assistono a delle code in uscita per le persone che devono pagare l'uscita e sono in tanti a uscire nello stesso momento. Col telepass tutto questo sarà dimenticato perché si passa attraverso un varco elettronico che alza la sbarra riconoscendo il device che sta nell'automobile. Ci auguriamo che i ritorni saranno significativi in virtù del fatto che in Arezzo ci sono oltre 40.000 dispositivi in circolazione. Il servizio permette di pagare il parcheggio in via posticipata sul proprio conto con le stesse modalità del casello autostradale. Attualmente abbiamo iniziato con l'Arena Eden perché è il parcheggio più test, dove dovevamo vedere qual era la risposta, i segnali sono buoni e poi lo estenderemo a Baldaccio, a Mecenate, a Ospedale, quindi cercando di fare un'offerta vasta per gli utenti telepass e per coloro che vogliono utilizzare il parcheggio in maniera più semplice ancora rispetto ad oggi.